Il personale è anche pertinente al suo stato di salute, a cosa era prima, a cosa può essere accaduto. A ruota libera davvero, siamo qui per questo. Sicuramente, forse, non conoscevo quelle che erano le conseguenze di una lesione midollare, per cui le ho conosciute in diretta. Non me ne aveva mai parlato nessuno, non mi ero mai informato. Con il quale Luca condivide anche una bella amicizia. La partenza alle 6.55 da Ovaro, giurale Europa, le decidure degli stessi non lasciavano spazio all'interpretazione. La porta dell'inferno apriva realmente le tendenze proibili. Il film storico dell'amici cuore di Abete Orgus, quello dell'amante McSor, gli amici dell'Ox. Ci sono dei puglietti bellissimi che stiamo facendo con l'Ox.Ella, per me, per un'area nazionale per proprio confertervi. E' una cosa importantissima che noi sicuramente porteremo in atto. Comunque, mi farò vedere meglio. Con i casi si può fare tutto. Quello che volete, passa solo per... ...velo sorpreso. Quindi un grazie infinito, allegri insegnanti. Non mi aspettavo. Per questa giornata, no, no. Per questa giornata importante, quello che poi invitiamo tutti per venire venerdì 19 a vedere un qualcosa, faremo delle piccole dimostrazioni di agility e quant'altro, che adesso gli ho fatto fare l'orsetto. Una piccola cosa che lui fa, come può battere il cinque, tutte cose che voi potete fare. Questo premio. Ogni cosa che lui fa viene associato ad un movimento e gli viene dato il premio. E lì viene... Ascia. Ah no, che pioretta le bambini. Dicevo prima, nella pet therapy, nel discorso di disabili, vengono utilizzati molto gli animali. Vengono utilizzati per la motoria, per aiutare a camminare, per aiutare comunque a muovere. Dimostrazioni di agility, faremo dimostrazioni di obbedienza e tutto quello che può essere. Grazie Fabrizio. Un saluto a Francesco Emanuele.